Numerose le criticità dette dai consiglieri comunali della Movimento 5 Stelle al progetto recentemente approvato per la riqualificazione dell'area di risulta Pescara, un capitolo importante se non fondamentale per lo sviluppo della città. Dalla gestione dei parcheggi a condizioni svantaggiose per la collettività, il rischio cementificazione sono molteplici gli aspetti sui quali sarebbe opportuno pensare a delle modifiche. Su questo i pescaresi sono stati invitati a mostrare una partecipazione attiva con una serie di punti raccolta anche tramite i commercianti e con la quartiera generale al Museo Colonna dove anche oggi, ultimo weekend a disposizione, è possibile per tutta la giornata dare il proprio contributo. Sono mesi che lottiamo per fermare questo progetto che abbiamo definito un progetto di speculazione, di svendita, di privatizzazione del centro e quindi del cuore della nostra città ed in particolare dei 13 ettari dell'area di risulta Ed oggi siamo qui per l'ultimo di una lunga serie di eventi al Vittoria Colonna, saremo qui dalla mattina al pomeriggio, vi aspettiamo fino all'incirca alle 19.30 e invitiamo tutti i cittadini a collaborare, a venire a sottoscrivere le osservazioni che sono un modo per dire la propria e per cercare di fermare questa vera e propria speculazione. Oltre al punto di raccolta, all'interno del Museo Colonna è possibile dare il proprio contributo anche sul sito areadirisulta.movimento5stellepescara.it dove si può compilare il modulo e inviarlo direttamente alla Comune. Grande partecipazione, almeno un migliaio di cittadini hanno in qualche modo detto la loro rispetto a una serie di osservazioni che avete preparato su dei prestampati molto specifici. Esattamente, abbiamo lasciato la possibilità a tutti i cittadini di esprimersi liberamente con dei moduli per le osservazioni da riempire con indicazioni che volevano sostenere personalmente. Altre invece sono state delle proposte che abbiamo fatto noi e che riguardano le tariffe, ovviamente il posizionamento degli edifici, dei silos per i parcheggi, la destinazione residenziale e abbiamo proposto delle alternative e anche l'eliminazione di ciò che riteniamo che non debba essere collocato nell'area di risulta, come le residenze private, come la strada interrata che fa spendere quasi 4 milioni di euro per portare le auto esattamente dove già vanno oggi e quindi tutta una serie di modifiche che rispecchiano le criticità che abbiamo evidenziato in mesi di lavoro.